2 Minion Catturate Spendenti subiettivi Stiamo prendendo Alba Spendiamo Alba Stiamo prendendo Charlie Il nemico ha preso bravo Alba al sicuro Il nemico cattura Alba Granata Muoversi Veloce Fatto fuori Granata Muoversi Stiamo prendendo Charlie Nemico conquistato Prendiamo Bravo Il nemico prende Charlie Siamo sull'obiettivo Bravo Il nemico cattura Alba Il nostro nuovo avviso di turbo è attivo Il nemico è ucciso Prendiamo Charlie Il nemico è pronto Il nemico prende Alba Stiamo prendendo Bravo Il porto aereo Il sbaglio mancato Una mina a grappolo Mettila Siamo Bravo Il nemico ha catturato i polvi Andate a respingerlo Polvo diretto Siamo sull'obiettivo Bravo Fantasma attivato Il nemico è armato Il nemico è supportato Il nemico è alleato Un nemico è allieato In zona Il nemico è ormai Il nemico è appistato Il nemico è arrivato Il nemico è av HOY info 401 having successfully El nemico è appistato Il nemico è avistato Il nemico è portanto Il nemico è appistato E' eventualmente Si è avanti Turbo alleato attivo. UAV alleato online. Il nemico prende Bravo. Stiamo perdendo Charlie. Il nemico cattura Bravo. Siamo sull'obiettivo Alpha. UAV alleato in zona. Marco il nemico. Il nemico prende Bravo. Due obiettivi al sicuro. Prendiamo Alpha. Stiamo perdendo Bravo. Siamo sull'obiettivo Alpha. Il nemico prende Charlie. Il nemico prende Charlie. Spara a loro. UAV ostile attivo. Il nemico prende Bravo. Una grappolo alleata. Il nemico prende Bravo. Stiamo perdendo Bravo. Atacco con mortaio. Il nemico è in arrivo. 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 Obiettivo Bravo con Bumento. Ratturacelo. Stiamo perdendo Bravo. Stiamo perdendo Charlie. Stiamo perdendo Alpha. Il nemico cattura Charlie. Prendiamo Bravo. UAV ostile in sorvolo. Il nemico ha preso Charlie. Il nemico ha preso Charlie. Stiamo perdendo Bravo. Il nemico cattura Charlie. Il nemico ha preso Charlie. Stiamo prendendo Bravo. Bravo. Siamo sull'obiettivo Bravo. Contatto l'amico. Stiamo prendendo Bravo. Prendiamo Bravo. Il nemico controlla due obiettivi. Dovete attaccare. Bravo al sicuro. Stiamo perdendo Bravo. Il nemico controlla l'uso. Comparamento di un uomo in attesa. Stiamo prendendo Charlie. Il nemico prende Bravo. Siamo a metà missione. Continuate a comprare. Siamo sull'obiettivo Charlie. Il nemico cattura Bravo. Il nemico controlla l'alba. Un ucciso. Controlliamo due obiettivi. Il nostro UAV è in sorvolo. Sai gli attestati. Il nemico prende Bravo. Stiamo perdendo Bravo. Stiamo perdendo Bravo. Stiamo perdendo Bravo. Il nemico controlla Bravo. Il nemico controlla Bravo. Uavimento di un eccezzatore. Uavimento di un eccezzatore. Uavimento di un elain. Il nostro UAV è in sorvolo. Stiamo perdendo, bravo! Uo via, alleato in giro! Il nemico cattura, bravo! Stop! Granato! Fuoco a bino! Prendiamo Charlie! Contatto! Il nemico ha preso arpa! Il nemico cattura, bravo! Fuoco a bino! Cazzo! U avvio stile attivo Il nemico prende Charlie Clashbang Stiamo sull'obiettivo bravo Granata Stiamo bravo Storica Il nemico si ha sull'obiettivo Andate a respingerlo Nemico a terra In arrivo Flashbang Stiamo sull'obiettivo bravo Stiamo prendendo bravo U avvi nemico nel settore Prendiamo bravo Mina grappolo alleate in campo Il nostro U avvi è in servono Stiamo prendendo Stiamo prendendo Stiamo prendendo U avvi di disturbo alleato Stiamo bravo Il nostro U avvi è in servono Versaglio a terra Il nemico prende Charlie Al riparo Ammatt Nel nemico cattura Charlie Guarda dove spari Siamo sull'obiettivo bravo Siamo sull'obiettivo bravo U avvi alleato online Stiamo perdendo Charlie Stiamo prendendo Bravo Il nemico cattura Il nemico cattura gli obiettivi Liberate Il nemico prende Charlie Stiamo prendendo Alfa Stiamo prendendo Charlie Controlliamo Alfa Stiamo sull'obiettivo bravo Non vengono a spararmi Spendiamo bravo Ci colpisco Naturalmente Stiamo prendendo Bravo Stiamo perdendo Alfa U avvi Stile in servono Il nemico ha due obiettivi Prendete il controllo Missione compromessa Ci hanno sconfitti Stiamo prendendo Stiamo prendendo Grazie a tutti.